Ok, io mi chiamo Davide Vassena e sono titolare della ditta Vassena Filiere Ditta che è stata fondata nel 1958 da mio padre La firma è stata fondata nel 1955 che è stata fondata da mio padre E cosa che mi hai chiesto? E cosa devo dire? Niente, da sempre ci occupiamo della produzione di filiere per la trafilatura di fili ad alta velocità Abbiamo sviluppato dei prodotti nuovi, dei prodotti brevettati che possono aiutare il mondo della trafilatura E niente, adesso cerchiamo questo sbocco sul mercato russo perché è uno sbocco molto importante aziende interessanti e potrebbe essere una buona opportunità di crescita ancora Il mercato che utilizziamo noi è praticamente la trafilatura, la trafileria I nomi sono i più illustri che avete nel mercato russo Tipo, possiamo dire i nomi? Tipo Severstal, tipo UZPS Sì, abbiamo tutti i clienti, cerchiamo di tenere i clienti di un bel target in modo tale che tutti in ricaduta arrivano tutti gli altri E cerchiamo di servire tutti nello stesso modo, considerando un cliente il top tutti indistintamente dal primo all'ultimo i migliori clienti che possono essere L'aspettativa è quella, il motivo della nostra presenza qui è per poter avere la possibilità un domani di essere più presenti ancora più capillarmente sul mercato russo Ce l'auguriamo Ok Sì, qui È acc Stewart posto è stato un piacere grazie